Allora, iniziamo oggi questo argomento che è citato qua, introduzione a Python, per cominciare ad avvicinarci, mentre in parallelo continuiamo ad affinare un po' le nostre capacità di costruzione di diagrammi di flusso, cominciamo ad avvicinarci anche poi al linguaggio di programmazione con il quale verranno poi implementati i programmi che faremo. Oggi magari mi concentro su questa parte, visto che abbiamo solamente un'ora e mezza, domani che avremo tre ore magari riusciamo a dedicare anche un po' di tempo a rivedere il diagrammi di flusso degli esercizi della volta scorsa, quindi magari anche vedendo una soluzione al problema del fioraio, che tutto sommato c'è anche un pochino divertito, abbiamo anche giocato un pochino su Slack durante il weekend, cercando di commentare e ragionare sui vari, facendo anche un po' le pulci, quelle che erano soluzioni, che magari erano anche soluzioni buone, però se uno comincia a cercare di vedere il dettaglio si accorge che magari dietro ad ogni soluzione c'è un nuovo problema risolto il quale le cose vanno complicate, eccetera, eccetera. Questo purtroppo ci insegnerà che praticamente non c'è mai nulla di scontato, mai nulla di finito, cioè nell'informatica c'è sempre qualche cosa da migliorare. Una delle cose che abbiamo sicuramente imparato nel giocare, nel condividere le possibili soluzioni al diagramma di flusso sul fioraio era cercare di pensare a quali sono i vari casi in cui il programma può funzionare. Quindi dobbiamo sempre immaginarci, ok, se i dati di input sono fatti in un certo modo, ad esempio lui vende 5 euro, poi 10, poi 15, che risultato deve dare? Oppure se vende un fiore solo alla fine della giornata, oppure se non ne vende nessuno, oppure se li vende tutti con lo stesso identico prezzo, cose di questo genere, bisogna verificare che il programma funzioni in tutte le possibili combinazioni, in tutti i possibili dati, in tutti i possibili valori e dobbiamo proprio sforzarci di immaginare quali sono i valori che potrebbero mettere in crisi il programma. Se ci abituiamo noi magari a pensare all'algoritmo nel caso normale, nel caso semplice, nel caso in cui non ci sono anomalie, e poi una volta fatto questo ci chiediamo sì, però che cosa potrebbe mandarlo in crisi, quali sono le condizioni particolari, allora scopriremo che poi l'algoritmo magari dimentica di trattare alcune condizioni e andremo a migliorarlo, a raffinarlo, in modo da rimuovere tutti quelli che sono dei malfunzionamenti che magari emergono, diventano evidenti solamente in casi particolari, in casi limite, quelli che in italiano chiamiamo condizioni limite o casi limite, in inglese invece normalmente vengono chiamati corner cases, quindi casi d'angolo, che diciamo così, corrispondono ai valori di solito minimo, massimo, 0, 1, un valore negativo quando ha aspetti positivo e cose di questo genere, sono tutti casi che di solito non ci vengono in mente, perché noi pensiamo al caso normale del fiorario che vende qualcosa, ma se cominciamo a pensare alle varie casistiche possibili ci accorgiamo che ci sono più casi da considerare. Questo, diciamo così, l'abbiamo un po' appreso come lezione e dovremo tenerlo presente sempre quando andremo a sviluppare i nostri programmi. Ma proviamo a venire un pochino più al lato pratico, poi ricordatemi che gli ultimi 5 minuti della lezione cominciamo a darvi qualche indicazione in più riguardo al laboratorio di giovedì e poi domani avendo tre ore ne parleremo con più calma. Allora, parlando del linguaggio Python, è un linguaggio che risale grossomodo all'inizio degli anni 90, un nome un po' strano, però è un linguaggio di programmazione, è stato inventato da questo signore. Questo signore, che noi in italiano leggiamo Guido Van Rossum, ma in realtà lui si chiama Guido perché è olandese, quindi non lo pronuncia sicuramente all'italiana, a un certo punto ovviamente usava i linguaggi di programmazione che erano esistenti all'epoca, in particolare C, C++, un pochino anche Java, ma si è reso conto che erano linguaggi, in certo senso, che avevano già un certo gradino di ingresso, cioè richiedevano già una certa competenza per potersi usati, ma perché erano pensati per un tipo di utenza particolare, erano pensati per dei programmatori, diciamo, professionisti che dovesse ottenere in piedi di programmi anche di grande dimensione e soprattutto, visto anche la potenza scarsa delle macchine dell'epoca, che fossero molto efficienti durante l'esecuzione, quindi fossero veloci. Quindi alla fine il programmatore faticava di più per costruire un programma che fosse più efficiente, più rapido in esecuzione. Van Rossum ha pensato invece che fosse necessario, proprio perché l'informatica stava esplodendo, creare un linguaggio che fosse adatto anche a chi stava imparando, a chi non avesse necessità particolare di efficienza esagerata, oppure di programmi di una vastezza esagerata, ma che permettesse a chiunque di risolvere, di implementare dei programmi di dimensioni medie, normali, per una semplicità molto maggiore rispetto agli approcci che erano, diciamo così, forzati dai linguaggi esistenti. E con un po' di anche paracaduti in più per il programmatore. Cosa intendo? Che mentre chi ha già usato il C, se ha quanto è facile accedere a una locazione di memoria che non esiste, quindi far sì che il programma abbia un comportamento imprevedibile, con Python questo non è possibile, perché il Python controlla tutti gli accessi alla memoria e quindi in quel caso il programma si ferma con un messaggio di errore ben chiaro. L'altra cosa che ha Python rispetto agli altri linguaggi, in gergo, è chiamato all batteries included, cioè immaginate quando voi comprate un giocattolo e nella scatola del giocattolo non ci sono le batterie, quindi in realtà avete il giocattolo ma vi manca qualcosa per farlo funzionare. Ecco, la filosofia di Python invece è quella di dire, quando tu ti scarichi il linguaggio Python, hai già con te tutta una serie di librerie, tutta una serie di funzioni a disposizione, che ti permette già di fare molte cose, quindi non ti devi andare a prendere degli altri pezzi in giro, ti do già tutte le funzionalità che di base ti possono servire per sviluppare i programmi più generici, di generica utilità. Poi è chiaro che se ti serve qualcosa di più specifico dovrai andarti a prendere le funzioni, le librerie, i moduli che ti servono. Questo al contrario, se voi andate a vedere, la libreria standard del linguaggio C è estremamente più magra rispetto alla libreria standard del linguaggio Python, perché l'approccio è completamente diverso, in C metto il minimo e poi se vuoi te lo aggiungi, in Python metto già una quantità generosa di funzionalità già definite, è un metodo molto semplice per poterle estendere. L'altra differenza rispetto ai linguaggi precedenti è che Python è un linguaggio cosiddetto interpretato, l'abbiamo accennato brevemente la volta scorsa, è un linguaggio interpretato, è un linguaggio che guarda nel tuo programma una sola istruzione per volta. Mentre questo potrebbe essere forse un pochino meno efficiente, ma come dicevamo l'efficienza non era tra gli obiettivi principali della progettazione di Python, può rendere il programma un pochino meno efficiente, ma lo rende sicuramente più interattivo, nel senso che io posso scrivere un'istruzione e vedere immediatamente qual è l'effetto di quella istruzione, senza dover necessariamente salvare un progetto, compilarlo, eseguirlo, eccetera, eccetera. Quindi si presta molto di più a sperimentare e apprendere scrivendo o scrivere apprendendo nuovi programmi, proprio perché ha un tempo di risposta molto più rapido. Quindi il linguaggio Python è stato un linguaggio di programmazione definito sulla carta, il linguaggio deve essere composto da queste istruzioni, si scrivono in questo modo e cominceremo a impararlo, almeno le parti più semplici e ovviamente non basta decidere che nel linguaggio Python il blocco di scelta si scrive IF, bisogna poi insegnare al computer a comprendere questo linguaggio, visto che il computer nativamente chiaramente conosce solamente il codice macchina. Questo è il compito dell'interprete Python. L'interprete Python è il software che traduce i nostri programmi scritti in Python in codice macchina che la CPU è in grado di eseguire. Quindi il primo pezzettino che vi ho fatto installare, scaricato dal sito python.org, è l'interprete Python, cioè il software che traduce i nostri programmi in codice eseguibile della macchina. Senza di questo potremo scrivere dei programmi in Python ma non potremo mai farli funzionare. A fianco, a livello di curiosità, questo è il logo del linguaggio Python che somiglia un pochino a un serpente, quindi Python ovviamente significa pitone in italiano, cioè con tanta fantasia insomma ci vedete un serpente ritorato, anzi due serpenti, diciamo uno testa in sull'altro testa in giù. In realtà il nome del linguaggio Python non c'entra nulla col serpente, col pitone, perché Van Rossum l'ha tratto dal film Monty Python, che a lui piaceva molto come approccio comico e quindi ha deciso di chiamare Python il linguaggio che ha creato. Poi ovviamente l'assonanza col nome del pitone è impossibile non vederla e quindi ha anche preso piede questa, ma l'origine era diversa. Allora noi, come dicevamo, abbiamo già scaricato l'interprete Python dal sito python.org, in realtà esistono varie tipologie di interprete Python, ma questo qua è quello ufficiale in certo senso, quindi da questi download noi siamo già andati a prenderci l'interprete di Python, poi i vari sistemi operativi hanno anche procedure e installazioni diverse, ma diamo per scontato che tutti voi ormai siate riusciti a installare e a far funzionare. Chi non l'ha ancora fatto si affretti, nel senso che entro questa settimana, possibilmente entro giovedì, aver completato tutte le parti di installazione che sono necessarie. E fin qua abbiamo un programma, un interprete che esegue le istruzioni scritte nel linguaggio Python. E il linguaggio Python cos'è? Il linguaggio Python alla fine è il linguaggio che è descritto in questa pagina, docs.python.org, che definisce, questa videata l'ho presa forse il mese scorso, quindi era ancora la versione 3.8.7, e descrive, c'è una language reference e una library reference che descrivono che cos'è questo linguaggio. Quindi dicono, se vogliate possiamo aprirla, dicono quali sono le istruzioni permesse nel linguaggio, anche se purtroppo lo dicono in un formato non facilmente comprensibile. Ad esempio, per sapere quali sono le operazioni arimetiche predefinite, lui parla di operatori, parla di token, però non ti dice bene neanche cosa sono. Ad esempio, per dire come si scrivono i numeri interi, ti fa questa tabellina qua con tutta una simbologia che è un pochino dal dettai ai lavori. Quindi la definizione formale di un linguaggio di programmazione che però non è, se vogliamo, il percorso più comodo per poter imparare da zero. Per poter imparare da zero forse è un pochino più comodo seguire i tutorial, eventualmente, oppure un corso come stiamo facendo noi in questo momento, e che invece introducono gli argomenti passo passo. Per quanto riguarda la domanda di Anton Giulia sono d'accordo con la risposta, nel senso che per scaricare l'interprete Python va benissimo sia la versione 32 bit che la versione 64 bit, indipendentemente dal sistema operativo che avete. Quindi sono assolutamente equivalenti per il tipo di cose che faremo, cioè se non vi mettete a fare programmi che lavorano con gigabyte di dati, non vi accorgete della differenza tra due versioni, quindi è assolutamente indifferente. Quindi dicevamo, la documentazione sulla Python, oltre a quello che troviamo sul libro, troviamo nelle lezioni, chi vuole può seguire delle porzioni del tutorial, faremo spesso riferimento invece alla library reference, cioè che le funzioni di libreria offerte dal linguaggio. Anche queste ci danno tutte le funzioni che il linguaggio può supportare con la sua libreria standard. Quando si parlava di batterie comprese, queste sono le batterie di Python. Sono tutte le funzioni che Python ci mette a disposizione per utilizzare i nostri programmi se ci servono. Ad esempio qua vedo una libreria math dove ci sono delle funzioni matematiche, una libreria Fractions, se vogliamo lavorare con le frazioni e quindi vogliamo tenere numeratore e denominatore separati e fare i conti in questo modo, c'è già e non me la devo costruire da zero, ad esempio. Statistica, eccetera. E poi ci saranno altri, molti altri moduli che possiamo aggiungere a questi che sono quelli predefiniti. Quindi di quanto in quanto andremo a leggere qui sul riferimento ufficiale della libreria Python quelle che sono le spiegazioni, la definizione delle singole funzioni. Ci dobbiamo abituare a andare a volte ogni tanto, non accontentarci della versione semplificata di una cosa che c'è sulle slide e che c'è sul libro, ma andare proprio alla fonte dove viene definito, diciamo così, al di là di ogni dubbio come funziona una determinata cosa. Quindi, come dicevo, il language reference non lo usiamo quasi mai perché è un po' troppo per tecnici, il tutorial lo possiamo andare a scorrere e il library reference di tanto in tanto andremo a ricercarlo. Questa è una reference, quindi è come fosse un dizionario, cioè vado a cercare ciò che mi serve, non leggo dalla Z, vado semplicemente a ricercare le informazioni sui dettagli che mi servono. E vabbè, poi qui ho indicato anche un paio di altri link ad altri siti dove ci sono dei tutorial aggiuntivi, della documentazione aggiuntiva, ma basta che ci mettiamo a cercare su internet di informazioni su Python e ne troviamo veramente avagonate, quindi il riferimento dell'informazione non è sicuramente il problema nell'apprendere il linguaggio. Ok, questo è il linguaggio Python, l'interprete Python e se volete lo possiamo già, diciamo così, testare come c'era scritto nelle istruzioni di installazione, semplicemente aprendo una finestra di comandi, quindi in Windows si chiama prompt dei comandi o command prompt, in altri sistemi operativi si chiama terminale, è una finestra che accetta i comandi. Allora ricordatevi che quando quelli un pochino più anziani di voi hanno cominciato a programmare, tutto ciò che vedevano di un computer era una cosa di questo genere, cioè il computer si accendeva, compariva lo schermo nero, un trattino lampeggiante e lui mi diceva, era il modulo che il computer aveva per dirmi, sto aspettando i tuoi comandi. Questa è la cosiddetta interazione o interfaccia a linea di comando del sistema operativo, quindi devo inserire un comando dopo l'altro, noi siamo abituati a cliccare su icone, spostare finestra eccetera, ma dietro le quinte, sotto sotto, alla fine il calcolatore funziona, il sistema operativo funziona così, cioè accetta un comando dopo l'altro e lo esegue. In particolare se noi eseguiamo il comando Python, stiamo dicendo al sistema operativo voglio eseguire l'interprete Python. Questa è la modalità di interazione, di esecuzione interattiva dell'interprete Python, non lo useremo quasi mai anche perché è un pochino scomoda, però ci serve, infatti ve l'ho messa nell'istruzione di installazione perché ci serve per capire che se Python è stato installato correttamente. Quindi Python mi dà il suo benvenuto con una serie di sigle incomprensibili e poi mi mette queste tre freccioline con una linea lampeggiante che dice, ok, sto aspettando che tu mi dica che cosa vuoi fare. A questo punto, in questo invito a scrivere qualcosa, questo momento in cui il computer aspetta che io scriva qualcosa, in italiano si chiama invito, in inglese si chiama prompt, invito lo si usa quasi mai come termine, quindi parleremo di prompt di Python, è il momento in cui Python ci chiede di scrivere qualcosa. A questo punto noi qua potremmo scrivere un'istruzione in linguaggio Python. Adesso non la sappiamo scrivere perché il linguaggio Python non lo conosciamo ancora, però ne scrivo una io, print da parentesi 1, che è l'istruzione con la quale stampo il numero 1. Se schiaccio invio, a questo punto, quando premo invio l'interprete Python prende ciò che ho scritto e lo esegue. In questo caso lo esegue in Python e quindi converte queste istruzioni, print1, che è un'istruzione Python, nelle opportune istruzioni in codice macchina e queste istruzioni faranno sì di stampare 1 sempre sul terminale. Quindi questo è il mio programma che ho eseguito e questo è l'output del programma, ciò che il programma ha generato in uscita. Fatto questo, l'interprete si rimette in attesa del prossimo comando. Ha fatto, adesso aspetta che io dia il prossimo comando. Questo ciclo si chiama ciclo REPL. Read, execute, print and loop. cioè leggi, esegui, stampa, p, print, loop, ricomincia, ricomincia da capo. Questo è un modo di interagire, do un comando per volta, lui lo esegue e poi si rimette in attesa del prossimo comando. Questa parola REPL la ritroveremo tra un attimo. È chiaro che programmare in questo modo è un po' antipatico, un po' scomodo. E quindi ci aiuteremo con degli altri programmi che ci aiutano appunto, ci facilitano la scrittura dei programmi. Alla fine un programma, un programma in Python non è fatto da una sola istruzione. Sì, questo è un programma, però è un programma che fa poco, fa una cosa sola, stampa il numero 1. È un po' inutile. Per essere utile un programma sarà fatto di più istruzioni, di più comandi. Così come abbiamo visto, quando facciamo un diagramma di flusso in un blocco solo, cosa posso fare? Devo avere una sequenza di blocchi che si articolano in un certo modo, allora a questo punto il programma risolve un problema utile. Quindi un programma sarà ovviamente fatto da una serie di istruzioni. Serie di istruzioni che saranno in un file, le metterò una dopo l'altra e dirò all'interprete Python, anziché dire esegui un solo comando, gli dirò esegui tutti i comandi che sono contenuti in questo file, cioè che sono contenuti in questo programma. Per scrivere questo file appunto ci sono vari modi. O uso un qualunque editor di testi, cioè un blocco note, io posso aprire il blocco note e scriverci dentro il mio programma in Python. E poi dirò all'interprete Python eseguilo, perché alla fine un programma in Python altro che non è un file di testo che contiene all'interno i suoi comandi. Però se sto scrivendo un programma in Python anziché un semplice testo, mi farebbe piacere che il mio editor mi aiutasse nel capire anche lui un pochino a sintassi Python e mi aiutasse a scrivere. Quindi per questo esistono dei software che si chiamano sistemi integrati di sviluppo, degli IDE cosiddetti, sistema integrato di sviluppo, che includono al loro interno sia l'editor per scrivere i programmi, sia anche la funzionalità per poterli eseguire e vedere l'output in un programma integrato più comodo. Quindi si possono usare diciamo varie tipologie di software, qui ce ne sono citati alcuni, noi useremo PyCharm Educational come ambiente di sviluppo suggerito, ma anche a questo punto se non è l'unico, e useremo anche un IDE online, quindi un ambiente di sviluppo direttamente su web che si chiama replo.it, che adesso vedremo, funziona nello stesso modo ma uno è un programma che abbiamo installato PyCharm, l'altro è un sito web a cui possiamo collegarci e tra l'altro ci tornerà utile anche il laboratorio per poter condividere ciò che facciamo se dobbiamo fare una domanda o se dobbiamo mostrare il nostro codice. Quindi proviamo a familiarizzarci un pochino di più con questi programmi. Allora che cos'è un IDE? Un IDE essenzialmente l'80% è un editor, cioè una finestra in cui posso scrivere del testo, ma anziché scrive testo normale, cioè il sonetto dell'infinito, scrivo codice Python. Allora poiché l'editor sa che scrivo codice Python, lui mi aiuterà ad esempio facendomi vedere i numeri di riga, evidenziando in colori diversi la sintassi dei vari comandi, quindi se io scrivo una parola chiave corretta lui me la fa vedere in grassetto e quindi mi accorgo che l'ho scritta giusta, ma se per caso lo scrivo sbagliata non compare il grassetto, allora immediatamente mi accorgo dell'errore di scrittura. Tutta la parte di indentazione, ricordate la volta scorsa quando parlavamo di pseudo codice in cui io rientravo del testo di un blocco di una certa quantità di spazi per far capire che era sotto, diciamo così, una certa condizione. Ecco, questa cosa qua ci viene facilitata, non devo mettermi io a scrivere gli spazi, ma mi viene generata automaticamente dall'editor e cose di questo genere. E l'altra cosa utile è il completamento dei nomi, per cui se io scrivo tre volte i nomi di una variabile, l'editor lo capisce e quindi la volta dopo mi suggerisce, un po' come siamo abituati a fare quando compiliamo una ricerca su Google, oppure scriviamo qualcosa sul cellulare, abbiamo l'autocompletamento che se stiamo scrivendo una parola che abbiamo già scritto, diciamo così frequentemente, mi compare già, mi viene già suggerita. Ma non solamente le parole, cioè le variabili che definisco io, ma anche i nomi delle funzioni, visto che ce ne sono tantissime, lui mi suggerisce quali ci sono. Quindi è un editor furbo, adesso ci giochiamo un pochino, che mi fa vedere che mi aiuta a scrivere un programma Python più correttamente, anziché doverlo fare semplicemente in un editor di testo sperando di non fare errori. Poi in un IDE c'è anche la finestra di output, sempre, c'è una finestra, una parte della finestra che mi fa vedere l'output del programma, separato. Noi avevamo qua, direttamente nella versione interattiva, avevamo l'esecuzione dell'interprete, il programma da eseguire e l'output tutti un po' mescolati in certo senso. Mentre invece un'interfaccia di un IDE ben separati in finestre diverse. E poi uno strumento fondamentale che è il debugger, cioè una parte dell'IDE mi permette di aiutarmi nella ricerca degli errori nel programma, degli errori che sono chiamati qua errori logici, cioè gli errori di impostazione del programma, non tanto gli errori di sintassi. Il debugger non trova gli errori, il debugger mi aiuta a cercarli, ok? Poi sono io che devo cercarli, sono io che devo trovarli. Però è uno strumento che ad esempio mi fa, mi permette di fare eseguire il programma passo passo, una riga per volta, un'istruzione per volta e vedere che cosa succede e ispezionare i valori delle variabili man mano che andiamo avanti. Quindi, come dicevamo prima, si può usare un normalissimo editor di testo, non lo faccio qua perché poi non ci serve, non lo faremo, ma questa è una normalissima finestra di un editor di testo in cui ho scritto un primo programma, in cui ho sempre usato l'istruzione print, tra parentesi, un messaggio hello world e questo lo ho salvato in un file che si chiama hello.python, questo lo posso comporre con qualunque editor di testo, lo salvo da qualche parte e poi col comando python l.py, che è qua scritto un pochino più in grande perché nella finestra nera si legge poco, sto dicendo python, esegui le istruzioni che sono scritte all'interno di questo file. E lui, perché questo è il nome del file, e lui lo esegue e stamperà hello world come output. Questo è un programma che è composto da due righe in cui la prima riga inizia con un simbolo di cancelletto che indica in python il simbolo del commento, quindi vuol dire che quella riga è una riga di commento e non è un vero e proprio, una vera e propria istruzione. Le righe di commento vengono ignorate dall'interprete python, lui non le guarda, servono a noi per scrivere un po' di documentazione, un po' di commenti su ciò che stiamo facendo e su ciò che vogliamo che il programma faccia. Quindi in realtà questo programma è fatto di due istruzioni, la prima è un commento e la seconda è l'istruzione di stampa, istruzione print. La prima non fa niente, non ha nessun effetto pratico, la seconda ha come effetto quello di visualizzare questa parola. Però in questo caso, vedete, abbiamo un editor da qualche parte, la finestra di comandi dall'altra, dobbiamo lanciarlo a mano, tutte le volte è un pochino scomodo. E quindi noi potremmo decidere appunto di usare un IDE sia per scrivere il programma, sia per eseguire il programma stesso. Quindi prima lo scrivo e poi lo faccio partire. Quindi anziché usare un editor di testo per scrivere e poi nella console direttamente per eseguire, quindi nella finestra di comandi, usiamo un IDE per entrambi i compiti. Arriviamo qua, poi torno indietro. Quindi PyCharm è fatto così, è composto da queste sottofinestre, ma adesso conviene, secondo me, vederlo direttamente dal vivo, piuttosto che non sulle immagini che sono catturate nelle slide, che ci saranno come riferimento, ma vediamolo in modo interattivo. Quindi io prima ho attivato già il mio PyCharm, che è qua, ok, fatemi fare, no, ok, così non ci dà fastidio la slide, scusatemi. Ok, ce l'ho fatta, dopo sei tentativi a mettere lo sfondo bianco. Allora, questa è la finestra di avvio di PyCharm. Sì, 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 anzi, scusate se non l'ho detto, possiamo anche farlo insieme, se volete, se avete già tutto installato, facciamo un passaggio insieme. Insieme, quindi avviamo PyCharm e tutti i programmi che creeremo dovranno essere inseriti all'interno di progetti. Un progetto, poi lo vediamo meglio, ma è composto da più file, perché magari è un programma molto lungo e quindi in un file solo non ci starebbe tutto, non vorremmo scrivere tutto, allora lo vogliamo separare in più parti, in più file diversi. Allora, ciascuno di questi costituisce nella terminologia di PyCharm un progetto. Quindi, se noi clicchiamo su nuovo progetto, compare questa finestra di creazione di nuovi progetti. È un po' complicata a prima vista da vedere, ma la cosa importante è la prima riga, cioè il nome della cartella nella quale, location, il nome della cartella nella quale il progetto verrà salvato. Quindi potete scegliere la cartella che volete sul vostro computer e il progetto verrà creato lì all'interno. Quindi lo possiamo chiamare prima lezione, ad esempio. Poi ovviamente vi condivido i file che stiamo creando. Poi c'è la seconda parte di questa finestra che parla dell'interprete Python. Qui ve lo accenno anche qua in due parole, anche se il discorso sarebbe molto più complicato. Io ho installato su questa macchina l'interprete Python, in questo caso versione 3.8. E quindi potrei decidere di creare questo progetto e fare in modo che questo progetto usasse direttamente l'interprete che ho installato sul computer. Quello che abbiamo richiamato prima sulla finestra di comando è questo qui, questo Python qui, il 3.8.2. In realtà è buona abitudine far sì che ogni progetto abbia una sua copia personalizzata dell'interprete Python. Ma perché? Semplicemente perché magari in un certo progetto ho bisogno di una libreria e in un altro progetto non ne ho bisogno e ne ho bisogno di una diversa. Allora se tutti i progetti usassero lo stesso interprete di sistema sarebbe un casino perché dovremmo installare le librerie di tutti all'interno dello stesso interprete. Mentre invece Python mi dà la possibilità di creare un cosiddetto virtual environment, cioè un ambiente virtuale che è una copia dell'interprete di base, di partenza privata al mio progetto. Alcuni dicono che non c'è l'interprete qua, non gli popola questa finestra. Allora in questo caso dovreste andare qua a cercare, no dove è andato, qui non ci sono, dovrebbero a un certo punto qua comparirvi la possibilità di specificare un interprete diverso oppure di trovarlo, qui ecco qua, su System Interpreter, ecco qua. Se voi andate sui tre puntini, Interprete di sistema, vi permette di indicare qual è la posizione all'interno del computer su cui si trova il file Python o Python.exe o Python 3. In questo caso io ne ho installate due versioni e me le fa vedere entrambe. Quindi se andate da qua, Interprete, tre puntini, Interprete di sistema e dovrete vedere qual ci sono. Se non ci sono dovete andare a cercare dove sono stati installati. Ok? Fatemi vedere l'immagine che avete messo. No, allora, fermi un attimo. Questa finestra che mi avete fatto vedere attiva PyCharm, è la finestra di installazione precedente. Quindi voi avete installato PyCharm, professional e non quello edu, e quindi vi chiede un account per poterlo installare. Quindi siamo al passo precedente, Nicolo, non hai ancora installato il PyCharm. Quindi non puoi ancora creare nuovi progetti. Ok, se prendete la versione edu, non ha tutta questa parte l'attivazione, o se no dovete guardare sul documento di installazione le ultime pagine che sono relative alla versione community oppure professional. Proviamo ad andare avanti e poi cerchiamo di risolvere, magari anche offline, questi problemi di installazione, anche perché ovviamente bisogna capire, vedere cosa vedete sullo schermo, che cosa avete installato, che sistema operativo... non è semplice farlo in tempo reale. Diciamo, normalmente, quando tutto funziona, vi si definisce un nuovo progetto, definiamo un progetto creando un nuovo environment, e lui lo baserà sulla base di questa versione, Python 3.8, l'ultima che abbiamo installato. Quindi la versione normale è questa, che è già la versione iniziale, quindi non ho toccato nulla. Se non toccassi nulla, parte già così. Quindi è la volta normale. Se poi, appunto, a chi non si popola questa parte interprete base, cerchiamo poi di capire perché. Mi contattate, cerchiamo poi di capire perché. Poi l'ultima cosa, lui dice, crea inizialmente un file main.py che contenga già del codice. Cioè, normalmente, se io togliessi questa spunta, lui mi crea un file vuoto, con zero, sì, dovete usare new environment, con zero file dentro, altrimenti mi crea un file Python, che chiama main.py, che è un programma, diciamo così, di partenza. Clicco su create e lui lavora un pochino per creare il nuovo progetto. Vedete che ci mette un attimo per creare quello che lui chiama virtual environment, proprio appunto perché sta copiando lì dentro una versione dell'interprete Python. e dopodiché ci copia dentro la libreria di sistema e dopo un po'. Questo avviene solamente alla creazione del progetto, quindi non spaventatevi, non è lento così sempre. Aggiorno le librerie. Questa fase qua, normalmente, dovete avere una connessione a internet funzionante, perché vedete che scarica e installa delle librerie. Ecco, questa è la finestra base di PyCharm. Adesso possiamo cancellare ciò che c'era qua in questo file main.python, tant'è solamente un programma di prova, e scrivici il nostro programma di prova, che era primo programma di prova print hello world qui ho scritto un programma in Python. vedete che ci sono già alcune facilitazioni, come ad esempio quando ho scritto print, aperta tonda, lui mi ha già messo la chiusa tonda in automatico. Quando ho aperto le virgolette, mi ha già messo le chiuse virgolette. Ciò che scrivo tra le virgolette, me lo scrivo in un colore diverso da ciò che scrivo fuori, eccetera. Dopo un po' ci abitueremo a riconoscere questi piccoli, diciamo così, suggerimenti sulla sintassi. Se io mi dimenticassi di chiudere una parentesi, lui mi fa vedere subito un segno rosso che dice, attenzione, che io qua mi aspettavo una virgola oppure una parentesi chiusa. Idem, se dimenticassi, che ne so, quest'altra parentesi, trovo anche qui degli errori. Quindi, già mentre scrivo, ho già delle segnalazioni di quelli che potrebbero essere degli errori di scrittura, degli errori con i detti di sintassi. E qui ho il programma, che sto scrivendo. Sulla sinistra ho la struttura del progetto, quindi questo è il nome del progetto con la cartella in cui l'ho salvato. Dentro Virtual Environment non vado a vedere, ci sono le librerie di sistema, ma non mi interessano. E main.python è il file all'interno del quale sto lavorando. Il file, sulla destra, vedete main.python, è ciò che sto scrivendo. Fino a qua è un editor di testo, sto scrivendo cose. Se voglio farlo partire, sì, io ho cancellato il programma di prima, perché tanto non mi serviva, e sono partito a scrivere da zero la pagina vuota. Se clicco su questo triangolo verde, vedete che compare execute main.py. Ho portato il mouse sopra e mi dice, sei pronto ad eseguire il tuo programma. Quindi il programma fino allo scritto lo posso far eseguire. Quindi per far partire un programma su PyCharm devo cliccare su questo triangolo verde oppure andare sul file che voglio attivare tasto destro run run main. Sono due modi diversi. Ok? Chi avesse installato la versione community o professional non ha questo triangolino verde ma un menu qua in alto destra che corrisponde al tasto run ma è un pochino più complesso da impostare. La shortcut control R non so perché qui su Windows mi dice che questo shortcut è control shift F10 ve lo dice qua a fianco, nel menu vi dice a fianco qual è l'abbreviazione per eseguire il programma. Ok, facciamolo partire. clicco qui e mi si apre una finestra in basso che è la finestra di run main. Quindi qui sotto è una finestra di esecuzione run, vedete qua sotto che contiene l'output del programma che ho scritto Hello World. Quindi questa è la finestra e il programma è già terminato è stato velocissimo ha stampato questo testo e poi ha finito. E quindi lui mi dice il processo cioè il programma l'interprete ha finito col codice di uscita 0 vabbè, questo codice di uscita non ce ne frega niente. Ok? Fine, no? Nel senso che io scrivo il programma e lo posso far eseguire. Stavo guardando cosa mi ha scritto Alessia ma non so cosa ha aperto. Devi fare un nuovo file new project. Devi creare un nuovo progetto. Non so che cosa ha aperto probabilmente ha aperto una cartella che non contiene un progetto Python ma è la tua cartella utente. Se io scrivessi un programma di più righe perdon ad esempio lo scrivo anche in italiano e rifacessi il run a questo punto ovviamente esegue il programma due volte cioè il programma esegue le due istruzioni print una dopo l'altra per ora è l'unica istruzione che più o meno abbiamo visto finora la stiamo usando semplicemente per fare esperienza ok allora perché non vedo il triangolino verde sulla prima riga di codice sulla riga 1 può darsi che il programma non abbia ancora finito se c'è in basso una parte indexing può darsi che non abbia ancora finito di indicizzare le librerie oppure come si stanno dicendo nella chat prendo il file tasto destro run fa esattamente la stessa cosa dopo che l'ho fatto la prima volta tra l'altro il triangolino verde compare anche qua quindi rerun riesegui il programma main e quindi lo rilancia da qua quindi questo vedete compare dopo un po' dopo che lui si è accorto che il programma è completo può darsi che abbia degli errori di sintassi quindi può darsi che mi pare che se hai errori di sintassi non te lo faccia eseguire debba scomparire no non mi ricordo no no non lo fa ecco cosa succede se io volessi se io volessi eseguire un programma che contiene un errore di sintassi ad esempio non c'è la parentesi quadra aperta ecco vedete che l'interpreta mi dice attenzione questo tuo file contiene degli errori e quindi non lo stampa la word questo è un messaggio che mi da non è l'output del mio programma è il messaggio che mi da l'interprete python e mi dice attenzione io questo programma python non lo posso eseguire perché contiene degli errori e me lo dice nel momento in cui trova l'errore per cui se io poi l'errore fosse nella seconda riga nel momento in cui legge il file comunque vedete no guarda questo programma non è valido non comincia neppure a eseguirlo non è che esegue la prima riga e poi dopo si accorge l'errore dopo lui analizza il programma se non è scritto nella sintassi corretta non lo esegue se è scritto nella sintassi corretta invece parte e lo esegue Edoardo mi dice vedo un pallino rosso sulla terza riga l'hai messo tu se voi cliccate qua a fianco adesso vi spiego cosa serve cliccate qua mettete e togliete dei pallini rossi il pallino rosso tecnicamente è un break point cioè un punto di interruzione del programma un punto di interruzione del programma che funziona in modalità di debugging allora adesso faccio vedere il debug tra un attimo quando Daria mi dice come mai a me dopo termine non spunta run perché la prima volta devi fare tu run e poi dopo compare perché all'inizio non compare perché se non è ancora partito la prima volta io posso chiuderla e scompare vedi che non c'è poi lo eseguo faccio run ad esempio da qui e lui mi compare a un certo punto ci vuole un po' per orientarsi ovviamente allora il break point a cosa serve? serve per bloccare il programma ad un certo punto questo è un programma banale stampa due cose però immaginiamo che fosse un programma più complicato e io a un certo punto voglio controllare se lui funziona correttamente allora posso decidere non di eseguire il programma normalmente con run ma di eseguirlo in una modalità di controllo di debugging la modalità debug fa partire il programma normalmente ma poi ferma il programma non lo interrompe ma lo sospende nel momento in cui trova un break point che noi appunto clicchiamo semplicemente col puntino rosso quindi se io faccio run non capita niente questi puntini rossi sono ignorati se faccio debug vedete che compare una finestra in più questo punto il debug qua sotto appunto vedete che questa finestra si chiama debug main che mi fa vedere che il mio programma è arrivato main.py linea 5 quindi il programma è partito ha fatto la riga 3 e se io vado a vedere l'output del programma cliccando qua su console vedo che ha scritto hello world ok ed è fermo qua questa riga blu è evidenziata quindi ha eseguito l'istruzione 3 e poi si è fermato perché lì ho messo un breakpoint e in modalità di debugging il breakpoint ferma il programma poi io posso farlo ripartire quindi l'altra cosa che posso fare quando sono fermo è andare a ispezionare i valori delle variabili adesso non sappiamo ancora abbastanza python per poter avere delle variabili quindi non possiamo farci nulla ma qui sotto potremo vedere le variabili quindi quando a uguale b uguale c con i valori del nostro algoritmo potremo vedere se hanno il valore corretto il minimo quanto vale il massimo quanto vale eccetera eccetera il programma è sospeso non è morto è solamente lì in pausa noi possiamo aprirlo guardargli dentro e poi andare avanti farlo continuare ad esempio con questo tastino che lo fa ripartire e se vado a vedere la console in output ha finito ha fatto tutto oppure posso andare avanti adesso questo è un programma talmente semplice passo passo c'è questo questa frecciolina step over f8 che lo fa andare avanti il programma di un'istruzione per volta lo vedremo meglio quando abbiamo un programma con più istruzioni e quindi posso eseguire un'istruzione e lo posso vedere così scusate lo stoppo metto i breakpoint sulla prima riga ok e riavvio il debug perché si è bloccato qua non lo so debug main ah tolto il breakpoint scusate debug main no non lo fa doveva mettere il breakpoint qui ma non me l'ha messo non so perché vabbè ok vabbè scusate ma su programmi così banali il debugger probabilmente non riesce a fermarsi in tempo alla prima istruzione lo vedremo meglio più avanti quando avremo problemi più complessi perché sarà poi lo strumento principale per aiutarci a trovare i problemi quindi riassumendo il codice sorgente del programma run è l'output del programma debug è l'interazione col programma quando lo eseguo passo 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 per andare a cercare gli errori quindi ho tre modi diversi due modi diversi di eseguire il programma in realtà ne esiste ancora un altro che invece è il modo interattivo quello che usavamo nella console già prima se vedete qua c'è un python console se clicco su questo python console sotto mi apre un interprete python separato da quello che sta eseguendo il mio programma quindi se devo fare delle prove dunque ma se io scrivo print che ne so con la virgoletta semplice cosa mi scrive se scrivo print con le virgolette doppie cosa mi scrive mi scrive sempre a e se apro una virgoletta doppia e una semplice mi da errore di sintassi o mi dice che qualcosa non va adesso qua come faccio a uscire se scrivo print a dimenticando le parentesi mi da errore di sintassi quindi qui posso in questa python console testare delle istruzioni in modo interattivo esattamente come facevo qui solamente un pochino più comodo perché qui mi da la colorazione della sintassi posso andare avanti indietro eccetera eccetera e poi sono dentro lo stesso ambiente python console è qua in basso a fianco di run si apre la finestra qua sotto e semplicemente se scrivo exit sulla console di pycharm esce solo da questa console quindi esce così chiude questa console fine se vuoi riavviare la console devi riavviare da qua quindi non chiude ovviamente solo quella console la funzione print lo esegui anche con una virgola da sola senza le doppie virgolette non so cosa vuoi dire dici una cosa di questo genere no print una virgola da sola dici un apice così le virgolette singole si lo vedremo dalla prossima volta domani che in python le test le stringhe si possono delimitare o con l'apice doppio o con l'apice semplice o con la doppia virgoletta o con la singola virgoletta quindi questo è l'ambiente in cui lavoreremo principalmente ok scriviamo codice qui un pochino ci aiuta già lui a scriverlo correttamente e a controllare la sintassi e poi quando faremo run a questo punto se il programma è corretto farà la cosa giusta se è sbagliato farà la cosa sbagliata come agisce il debug non è che agisce il debug mi permette di far andare avanti il programma a piccoli passi e quindi osservare come evolve l'esecuzione del programma un po' come un po' come quando eseguo quando vedo un diagramma di flusso e col ditino mi metto nel primo box e poi dico cosa succede qua poi sposto dal dito sul secondo eccetera qui lo faccio all'interno del programma vi devo chiedere un po' di pazienza per riuscire a vedere un esempio utile perché dovremmo prima scrivere dei programmi che siano fatti più di tre righe ecco ma lo facciamo entro domani ne facciamo queste cose non c'è punto e virgola in python non esiste a me non compare la finestra di debug la finestra compare solamente se clicchi debug però se tu fai debug senza aver messo nessun breakpoint lui esegue il programma dall'inizio alla fine senza fermarsi sei sempre nella finestra debug però non si è fermato e quindi tutti i vari tastini dei comandi di debug non sono attivi ok quindi per attivare il debug devo innanzitutto mettere almeno un breakpoint e poi attivare il debug e a questo punto il programma parte e si ferma a un certo punto e ti dà tutte le funzionalità per debuggare il programma da questo momento in avanti ok e questo era la la prima diciamo così il primo tool che useremo con cui faremo la maggior parte del lavoro ecco qua c'era avevo preso una una videata di un programma un pochino più complicato che il java già dei dati eccetera eccetera e qui è fermo su questo breakpoint della linea 19 e mi sta facendo vedere qua a fianco i valori delle variabili che sono state memorizzate sono state lette dalla parte principale precedente del programma ok quindi diamoci un attimo di tempo quando sapremo scrivere programmi un pochino più articolati potremo vedere meglio cosa succede durante il debug Alessandro l'istituzione finisce quando vai a capo le righe gli a capo gli spazi bianchi in python sono parte della sintassi ok quindi noi abbiamo visto che noi abbiamo creiamo un progetto un progetto dentro può contenere uno o più file e l'insieme di questi file costituiscono il programma che vogliamo per noi il programma nel 99% di casi sarà in un solo file quindi tutto questo meccanismo di creare il progetto eccetera è anche un po' sovrabbondante perché sarà un progetto che all'interno contiene un solo file questo main.py dentro cui mettiamo le istruzioni però in generale chiaramente l'IDE mi permette di fare progetti anche che contengono dei programmi anche più complessi quindi noi possiamo alla fine decidere due cose ogni volta che facciamo un programma creiamo un nuovo progetto che sarebbe la cosa giusta la cosa normale quindi adesso facciamo questo progettino stupido hello world adesso tra un attimo vogliamo fare un altro esempio potremmo creare un nuovo progetto file nuovo progetto e ricomincio da capo a questo punto scelgo un'altra cartella lui creerà un altro virtual environment dentro questa cartella e così via oppure possiamo un pochino barare e creiamo semplicemente un altro file python qua dentro che chiamiamolo 42 ad esempio adesso vedete perché è un altro file che si chiama 42.python dentro il quale scrivo print 42 chi non sa perché 42 è un numero speciale deve recuperare e quindi in questo caso ho due file python questo e questo che nello stesso progetto ma che in realtà contengono programmi indipendenti allora quando magari dobbiamo fare l'esercizio di un laboratorio facciamoci magari un progetto per tutto il laboratorio e poi facciamo un file per ogni esercizio diverso per non avere un proliferare eccessivo di progetti quindi noi possiamo avere un progetto che contiene un file che corrisponde a un programma oppure un progetto che contiene tanti file ciascuno dei quali corrisponde a un programma oppure ma quest'ultima parte non la vedremo perché ha a che fare con programmi più complessi un progetto che contiene tanti file i quali file tra di loro vanno messi insieme per fare il programma come si fa un nuovo file scusate sono troppo veloce in cento modi diversi file new file python file ad esempio oppure la cosa più veloce è andare sul progetto tasto destro new python file quindi per creare le cose alla fine c'è sempre il tasto o il menu file new nuovo progetto oppure nuovo qualcosa altro tra cui python file oppure direttamente dentro il menu contestuale del progetto esatto mattia ok e questo è un ambiente ok probabilmente per il tipo di programmi che faremo noi ci conviene fare un progetto per ogni lezione per ogni laboratorio poi dentro ci facciamo i vari programmini che sono indipendenti l'uno dall'altro passi da uno all'altro ciascuno ha il suo run e quando fai run vabbè dice stoppalo e riseguilo perché stava già girando e quando fai run di questo chiaramente è separato run di main se vado su 42 faccio run di 42 mi fa vedere run 42 quindi sono indipendenti quando eseguo uno mi darò il suo output quando eseguo l'altro mi darò l'altro output ok vabbè qui ci sono le videate dei vari passaggi ma noi le abbiamo viste al vivo che è più bello quindi ricordiamoci che dentro la cartella di progetto c'è tanta roba se io vado a aprire questa cartella che ho appena creato dunque show in explorer con l'explorer del sistema operativo mi fa vedere che questa prima lezione ci sono simili ai file poi c'è la cartella vmv con dentro il virtual environment che c'è tanta roba dentro che di fatto c'è la copia di python poi punto idea che contiene i file di configurazione del lead l'unica cosa che non interessa in realtà sono questi file ok sono questi file che sono il nostro programma python il resto è tutta roba di sistema che si è creata lui quindi questo è il nostro lavoro lo possiamo direttamente vedere qui se vogliamo copiarcelo c'è questo comando show in explorer o show in finder sui mac dove possiamo vedere direttamente i file e le cartelle corrispondenti questo per dire i file sappiamo dove sono e quindi se io ho fatto un file e so dov'è qual è la prima cosa da fare su questo file gestire le copie di sicurezza quindi ricordatevi la cartella di progetto avete scelto voi dove metterla dove salvarla quando avete creato il nuovo progetto dentro la cartella di progetto ci sono i vostri file python ricordatevi che adesso quando spegnete il computer si romperà l'hard disk oppure si cancellerà qualcosa ok e vabbè magari non adesso perché non sono così non porto così sfiga ma prima o poi succederà ok quindi ricordatevi sempre che ogni volta che voi create un file ma questo non per il corso ma per la vita ogni volta che voi create qualche cosa quel file c'è sempre il rischio che da un momento all'altro scompaia per mille ragioni l'hai cancellato per sbaglio c'è scritto sopra qualcosa il gatto ha camminato sulla tastiera si rompe l'hard disk la chiavetta ti cade nel tombino quello che volete no no non c'è nulla da scherzare infatti Anton Giulio cioè chi ve lo dice chi ha più esperienza sa quanto dolore c'è già stato per aver perso dei dati ok quindi cercate almeno voi di non di non cadere in queste trappole se tutte le volte che lavorate ricordatevi sempre di fare almeno una copia quando volete fare su una chiavetta vabbè la volete fare su Dropbox va bene lo stesso o su un hard disk esterno va bene lo stesso l'importante è di farlo sempre sempre ok perché non è questione di sé ma è questione di quando prima o poi qualche cosa gli hard disk sono oggetti meccanici quindi prima o poi si guastano ad esempio quel Dropbox si può usare tranquillamente ricordatevi solo di copiarci sopra alla fine della sessione di lavoro copiarci sopra il vostro lavoro oppure direttamente create il progetto dentro la cartella Dropbox così lui si salva tutto ma in realtà salva troppo perché salva anche tutto il virtual environment però tanto non li pagate voi come si salva dal leader beh semplicemente se ho capito bene Sebastiano per salvare il file semplicemente clicco su c'è la cartella save file save dove è andato boh non ce n'è anche ctrl s ma di solito ma in realtà non serve salvare perché nel momento in cui fate fate run lui lo salva già automaticamente dov'è che c'è il salvo boh da qualche parte ci sarà non sono talmente abituato che quando scrivi qualcosa poi lo esegui e lui salva in automatico che devo dire che il comando per salvare può darsi che salvi automaticamente da solo però di sicuro quando fate run lui salva perché per poterlo eseguire lo deve salvare se invece vogliamo salvare nel senso di fare una copia di sicurezza progetto tasto destro mostro in explorer e mi fa vedere la cartella in cui ci sono i file e questi qua ci li andiamo a copiare da qualche parte no no quando si chiude salva automaticamente di sicuro allora un conto è salvare che avviene ogni volta che chiudo ogni volta che faccio run eccetera questo viene salvato automaticamente quello di cui stiamo parlando sono anche le copie di sicurezza cioè se ciò che ho salvato si perde o un altro una copia B un piano B un backup da qualche parte Alessandro dice il comando run il comando run è semplicemente eseguire il programma far sì che l'interprete Python esegua le istruzioni che abbiamo scritto qua quindi manda in esecuzione il il programma che abbiamo scritto lo fa partire e ciò che il programma stamperà comparirà nella console qua sotto quindi questa raccoglie l'output del programma poi quando cominciate a giocarci voi vedete che è tutto più facile la modalità interattiva come dicevamo è quella è quella che possiamo ottenere o dalla console come abbiamo fatto prima scrivendo un comando per volta oppure della console interattiva di PyCharm qua sotto dove possiamo scrivere un'istruzione per volta questo come dicevo serve non per scrivere un programma intero ma per testare per provare una singola istruzione come funziona questa è una caratteristica particolare dei linguaggi interpretati che possono essere usati in modo interattivo una cosa di questo genere in C non è possibile ad esempio vabbè qui lo fa vedere l'altro id che useremo alternativo a PyCharm soprattutto per fare degli esempietti veloci al volo eccetera e lo useremo anche in laboratorio è invece un sito web che si chiama repl.it è molto simile è più semplice come impostazione se ti rispondo solo a Sebastiano si può percorso di un file di progetto no però lo puoi copiare la cartella da un'altra parte e poi aprire la nuova posizione da dentro PyCharm non lo puoi fare allora repl.it repl.it ricordate repl.it è la sigla che vi ho detto prima sta per read execute and print loop allora loro ci hanno fatto un sito web che funziona in questo modo che ti permette di testare in modo interattivo i tuoi programmi quindi vi consiglio per il laboratorio di farvi un account su questo sito repl.it un account gratuito e lì dentro potete creare dei nuovi programmini lui li chiama repl in vari linguaggi di programmazione ce n'è a piacere in un certo senso più di quanti non ci servono ed è quindi la possibilità di aprire un progetto ad esempio in python quello lo chiama repl non lo chiama progetto clicco qua su python lui quando lo crea un progetto gli da un nome a caso mettendo tre parole insieme amazing dart turquoise eccetera eccetera ma noi lo possiamo anche qua chiamare prima lezione lo cambiamo lì sopra ok e qui cosa compare beh compare una visione molto semplificata del progetto dove ci sono i file qua sulla sinistra il programma qua al centro e la console cioè l'output del programma qui a destra quindi con un clic solo se andate su repl.it fate un clic crea un nuovo repl in python arrivate qua allora a destra avete già una console python pronta e quindi potete ad esempio scrivere solito print 42 e lui lo esegue quindi è pronto un programma un interprete python interattivo quindi se dovete solo testare un programma un comando ce l'avete lì oppure potete scrivere qua un programma print buongiorno print a tutti tra l'altro vedete che mentre scrivete lui si prende la briga di farvi comparire la documentazione delle funzioni che state usando che può essere utile soprattutto se stiamo usando le funzioni che non usiamo tutti i giorni quindi non siamo sicurissimi la stessa cosa si può anche fare in PyCharm da qualche parte con un control qualcosa eccolo qua basta si aspetta un attimo col mouse su una certa posizione e sotto vi fa vedere qua la spiegazione della funzione in questo caso print e i vari parametri che può ricevere ok poi alcune cose le impariamo perché le useremo tutti i giorni altre cose invece è comodo avere direttamente la documentazione nel punto in cui la usiamo ma torniamo al nostro repl ho scritto anche qua un programmino magari ingrandisco un pochino il test vediamo se riusciamo a farlo funzionare meglio buongiorno non ho scritto sbagliato ovviamente il fatto che io abbia scritto buongiorno con l'errore di sintassi lui non se ne accorge ovviamente perché non gliene frega niente che sia scritto correttamente in italiano basta che sia scritto correttamente in python e possiamo eseguirlo facendo run run è questo tastino verde in alto che adesso con questo livello di zoom è un tasto che fa quasi paura perché ecco prima ci compariva anche la parolina run allora clicco sopra e sulla destra sempre ovviamente nella parte di output vedo l'output del programma stesso compreso l'errore di italiano che c'è dentro l'errore di battitura della parola buongiorno ok? quindi anche in questo caso ho la stessa dinamica la stessa dinamica di poter eseguire un programma scrivere il programma a questo punto viene salvato direttamente su repl.it non viene salvato sul mio computer quindi rimane salvato nel mio account repl e e lo posso eseguire poi se io vado qua nel mio account my repl e c'era ci sarà questo qui prima lezione e quindi ci sono tutti quelli che ho fatto già di prova prima e c'è questo lo vado a riprendere lo posso riaprire lo posso rimodificare esatto me lo ritrovo tale e quale lo posso eseguire ok? posso anche fare del debugging qua sopra perché questa dove è andata debugger apre la finestra di debugging adesso qui ci mettiamo un messaggio che scusate che quando si legge a questo livello di zoom qui c'è il file qui c'è la modalità debugger esatto quindi anche qua posso partire con il debugging ma se non ho messo nessun breakpoint non fa nulla anche qua cliccando da qua da qualche parte adesso non me la ricordo come si faceva a mettere un breakpoint via no vabbè non mi ricordo scusate lo facciamo scusate datemi tempo la prossima volta ve lo faccio vedere meglio non riesco a mettere un breakpoint qua mi ricordavo che il tasto destro mi dicesse toggle breakpoints ma evidentemente no ok lo vediamo meglio più avanti anche perché il debugging effettivamente come dicevamo a richiedere programmi un pochino più complessi però anche qua possiamo fare un debugging un pochino più semplice un po' meno sofisticato di quello che abbiamo sotto PyCharm ovviamente ma comunque per fare qualcosa di veloce è essenzialmente molto comodo l'altra cosa per cui allora noi potete usare entrambi gli ambienti di sviluppo è chiaro che questo è un prodotto online quindi deve essere sempre collegato a internet perché stai lavorando su quel sito lì e ha sicuramente meno funzionalità di quelle che ha PyCharm perché ovviamente c'è tutto qua mentre dentro PyCharm ci sono diciamo così anche delle funzionalità in più che chiaramente adesso non abbiamo visto però posso avere più programmi eseguili in parallelo eccetera eccetera e tutta una serie di funzionalità in più anche sulla formattazione del codice eccetera quindi PyCharm è un IDE più completo anche la versione educational che è molto limitata è sicuramente più completa come funzionalità però per svolgere i nostri esercizi va benissimo anche va benissimo anche Reple non qui su Reple non c'è nessun account di tipo educational o altro quindi potete usare la mail che volete non è un problema la cosa che volevo farvi vedere che ci servirà molto nei laboratori è questo tastino share questo tastino share ci permette di condividere questo Reple con qualcun altro in tempo reale normalmente c'era un limite tipo 2 o 3 progetti che potevano essere condivisi adesso col tempo covid hanno detto l'abbiamo aumentato fino a 50 allora questo lo useremo in laboratorio perché quando voi farete un esercizio a questo punto o lo fate con PyCharm o lo fate direttamente in Reple ma se poi avete dei dubbi fate copia e incolla mi incollate il codice dentro il Reple e poi mi condividete questo link se io copio questo link me lo mandate in chat a me insomma l'assistente che vi assiste in laboratorio noi usando quel link possiamo vedere esattamente ciò che fate voi quindi apriremo sul nostro browser esattamente questa finestra vedo il tuo codice vedo il tuo output e quello che tu modifichi io lo vedo in tempo reale e io posso modificare in tempo reale quel file e in più compare anche una piccola chat ma noi avremo già slack per poter chattare quindi quello è un modo per riuscire a vedere cosa state facendo il programma che state iscrivendo anche se siamo in posti molto diversi molto più immediata che non prendo faccio la videata te la mando oppure te la mando via mail eccetera no direttamente andiamo a condividere lo stesso programma quindi questa modalità qua sarà la modalità principale con cui potremmo darvi assistenza nel laboratorio ok non registrarsi sul Rep mi sembra che se non sei registrato non puoi fare condividi e quindi puoi usarlo normalmente anche se non sei registrato non è obbligatorio registrarsi per creare dei repl e fare i vostri programmini però se fai condividi visto che ti deve creare un link al tuo spazio vedi che qua c'è il mio nome devi essere registrato per poter fare condividi se non sbaglio però ovviamente non è obbligatorio non c'è nulla di obbligatorio rispondo alle due domande che in realtà sono già state risposte nel vostro interno sulla chat cioè le virgolette io ho messo le virgolette quando ho stampato dei testi non ho messo le virgolette quando invece devo stampare dei numeri mettiamo 3,14 per cambiare è la differenza tra numeri e stringhe che tra l'altro numeri e stringhe è proprio il titolo della prossima lezione quindi ci addentreremo subito dalla prossima volta su questi tipi di dati e su come si scrivono quali sono le sintassi per rappresentare i valori numerici e i valori di tipo testo messaggio o stringhe ok sulla parte di debugging vi prometto che tornerò più tardi ma quando faremo programmi un pochino più complessi riusciamo a vederlo un pochino più ne approfonditamente allora finora abbiamo conosciuto una sola funzione di python abbiamo già fatto qualche cosina questa unica funzione di python che abbiamo conosciuto è la funzione print la funzione print è innanzitutto gli diamo un nome è una funzione quindi una funzione è una porzione di istruzioni che qualcuno ha scritto per noi che svolge un compito particolare in questo caso la funzione print mostra qualcosa sullo schermo mostra qualcosa sulla console aggiunge un messaggio sul console in questo caso è una funzione che è già presente nella libreria standard di python e la possiamo usare usare una funzione significa in gergo si dice chiamare una funzione o invocare la funzione e si fa mettendo il nome della funzione con delle parentesi tonde a fianco le parentesi tonde contengono i valori i valori da stampare ad esempio tra l'altro qui questa sintassi ci fa vedere che io posso usare un'unica istruzione print anche per stampare più valori in un botto solo e quindi ad esempio potrei scrivere print buongiorno tanto per non avere fantasia eh dai lo scrivo sempre sbagliato 3,14 salutiamo il signor pigreco separandoli con una virgola e poi posso ancora mettere un punto esclamativo per dire ecco allora se faccio run ovviamente oltre a stampare queste tre cose mi stamperà un quarto messaggio che è buongiorno 3,14 punto esclamativo la differenza qual è? che se uso print separate va a capo dopo ciascuna se uso più valori nella stessa print separati da virgola invece mette solamente uno spazio e li stampa tutti e tre sulla stessa riga ovviamente ci sarà modo di far sì che la print senza nulla cioè la print separate possano non andare a capo e si potrà fare in modo che la print con più parametri all'interno della funzione invece vadano a capo se io lo desidero però questo lo impariamo ogni funzione ha il suo comportamento e la sintassi è comune a tutte le funzioni cioè tutte le funzioni si chiamano col nome e parametri tra parentesi quale sia il significato dei parametri che cosa fanno i valori che li passano ovviamente ogni funzione la funzione print farà una cosa la funzione che ne so radice quadrata ovviamente si comporta in modo diverso non posso fare radice quadrata di buongiorno oppure fare radice quadrata di due o tre parametri diversi non farà di uno solo eccetera Angel mi chiede se servono delle direttive all'inizio per richiamare le librerie a volte si dipende ci sono alcune funzioni che sono già predefinite ad esempio print se io invece volessi usare una libreria matematica devo invece importare la libreria c'è un'istruzione che si chiama import per richiamare delle funzioni che sono presenti in alcune librerie e volendo poi ci sono anche le librerie non standard che vanno prima installate nel compilatore e poi importate quando parleremo delle funzioni principali ovviamente vi farò vedere dove si trovano quindi la chiamata funzione è semplicemente il nome della funzione con le parentesi tonde e all'interno delle parentesi ci sono i vari parametri la funzione print poverina fa una cosa sola cioè stampare quindi non è che abbia molta fantasia nel tipo di parametri che riceve noi abbiamo già visto che all'interno della print abbiamo potuto stampare dei messaggi e così negli esempi ci è scappato di vedere che i testi possono essere i messaggi diciamo di testo possono essere racchiusi o tra apici singoli oppure tra apici doppi o in italiano le chiamiamo le virgolette ok entrambi sono dei simboli che nella sintesi di python servono per delimitare una sequenza di caratteri che in python come in tutti i linguaggi di programmazione si chiama stringa quindi una stringa è un valore di tipo testuale un testo quindi fatto una sequenza di caratteri che è diverso invece da un valore numerico quindi vediamo già subito che in python possiamo elaborare dei testi dei messaggi oppure possiamo elaborare dei numeri perché elaborare dei numeri ci sembrava più scontato ma ovviamente anche elaborare i testi testi fatti ovviamente di più caratteri più caratteri si chiamano appunto stringa stringa o sequenza di caratteri però stringa è il nome universalmente noto per questo tipo di cose è indifferente usare gli apici doppi e gli apici singoli fate quello che preferite il libro vedo che usa sempre gli apici doppi molti preferiscono gli apici singoli perché sono più leggeri stancano meno gli occhi quindi quando hai un programma lungo l'apici singolo da meno fastidio quello doppio in qualche modo attira un po' troppo l'attenzione ma questione di preferenze e non solo ovviamente sotto le mani abbiamo anche un computer e quindi questo computer è anche in grado di fare delle operazioni quindi io posso fare la print del valore 3 ma posso anche fare la print di un'espressione ad esempio 3 più 4 6 per 7 quello che sia usando degli operatori che calcolano dei valori a partire dai dati che gli fornisco quindi potrò stampare anche delle espressioni che calcolano dei valori non necessariamente noti all'inizio quindi io posso stampare che il famoso tau vale quanto vale 314 per 2 314 per 2 che fa 628 dove la moltiplicazione ovviamente si usa col simbolo l'esterisco tau vale 628 alcuni sapete che c'è il movimento per sostituire pi greco con tau perché è più utile nei conti nelle formule che poi alla fine ovviamente è uno scherzo tra matematici ok e quindi possiamo combinare lo stampa di messaggi la creazione di messaggi di numeri oppure di espressioni che comprendono i numeri espressioni anche complicate perché io potrei anche avere delle espressioni più complicate con le parentesi con le quattro operazioni ovviamente non crea nessun problema all'interprete python valutare le espressioni anche complicate quindi io se io questa cosa qua potrebbe essere a sua volta lo posso mettere non so a 314 potrei scriverlo come 3 più 014 il tutto chiuso a parentesi per 2 e così via lo posso complicare a piacere no? cioè 1 più 2 lo scrivo come 1 più 1 ovviamente fa sempre la stessa cosa ma è solo per dire che ovunque come principio generale ovunque compare un singolo numero posso sempre metterci un'espressione complicata e quindi a sua volta ogni singolo numero può essere sostituito da un'espressione ancora più complicata e così via non c'è nessun limite il limite attenzione è un limite un po' mio alla comprensione e soprattutto dobbiamo capire cosa stiamo facendo perché qui abbiamo delle parentesi tonde che sono le parentesi tonde che delimitano l'espressione matematica e altre parentesi tonde che invece sono questa qui in fondo e quella all'inizio che invece delimitano la chiamata alla funzione print quindi lo stesso simbolo aperta tonda e chiusa tonda ha significati diversi qui dobbiamo contare bene le parentesi in modo da essere sicuri di pareggiarle essenzialmente allora rispondo a un paio di domande Mattia mi chiede qual è il comando per importare il codice da un altro file nel suo progetto si chiama import anche questo però non diciamo così è un po' al di fuori forse lo accenneremo verso la settimana 8 o 9 ma per il resto del corso ci basterà fare programmi su un file solo Jacopo invece mi chiede che differenza c'è l'interno della funzione print aggiunge la virgola per dividere i valori piuttosto che usare semplicemente lo spazio allora io devo allora immaginiamo di voler scrivere 3 e 4 ok se questo è quello che tu vuoi scrivere questo non funziona perché questo non è correttamente non è una sintassi corretta la sintassi della funzione print mi dice stampi hai dove era qua aperta tonda e una serie di valori separati da virgole ok allora qui non hai un valore perché 3 spazio 4 non è un numero non sono neanche due numeri cioè questo spazio qui crea un errore una sintassi non valida allora per stampare 3 e 4 devi scrivere 3,4 perché stampi due valori stampa un 3 e poi stampa un 4 altrimenti puoi stampare virgolette 3 spazio 4 allora li trasformi in testo come fosse un messaggio scritto e a questo punto questo 3 e questo 4 non sono più dei numeri non sono più dei numeri ma sono semplicemente dei caratteri che potrebbero essere a tutti 3 spazio 4 è la stessa cosa e quindi lui questo spazio fa parte del messaggio mentre questo spazio fa parte della sintassi python ok in più se gli dovessi scrivere buongiorno 3,14 senza questa virgola metto solo lo spazio però il 3,14 dove lo metto lo metto dentro le virgolette funziona però se anziché il 3,14 ci fosse questa espressione qui non potrei metterla dentro le virgolette perché altrimenti mi stamperebbe quell'istruzione lì con le parentesi con i più anziché il valore calcolato ok poi state litigando sulle virgolette doppie sulle virgolette singole è chiaro che se io devo stampare un simbolo di una virgoletta come dite voi io se devo stampare ciao scritto così ovviamente non funziona se volessi stampare ciao io apro le virgolette poi dentro c'è questo ciao ovviamente non capisce nulla perché questa virgoletta non viene lui non può capire che la voglio stampare lui capisce che sia la fine della stringa precedente allora si può giocare in due modi o giocando sulla dualità delle virgolette quindi se devo stampare le apici singoli li stampo e li racchiudo in una stringa con gli apici doppi oppure racchiudo in una stringa con l'apice singolo un messaggio che contiene l'apice doppio dov'è qua adesso mi sono perso la parentesi tonda e l'altra così e quindi è una stringa che inizia con l'apice singolo e quindi viene terminata l'apice singolo se dentro c'è un apice doppio lo stampa oppure come dice Mattia uso un backslash per fare l'escaping della letra ma non complichiamo troppo le cose perché non siamo ancora non appassioniamoci troppo al dettaglio cerchiamo di cominciare a capire il quadro generale e qui ci sono alcuni esempi di altri programmi ecco volevo solo chiudere con questa slide qua che ci permette di distinguere su due tipi molto diversi di errori visto che abbiamo cominciato a scrivere un po' di istruzione abbiamo visto che alcune volte funziona altre volte non funziona allora finora gli errori che abbiamo trovato erano tutti errori dei sintassi cioè ho scritto 3-4 con uno spazio ho dimenticato di chiusere la parentesi non ho bilanciato bene le virgolette allora erano tutti errori che venivano bloccati nel momento in cui provavo ad eseguire il programma provavo ad eseguire il programma e il compilatore cioè l'interprete dice no il programma non è corretto quindi così come se io scrivessi che ne so print con la P maiuscola ecco la print si scrive con la P minuscola se la scrivo con la P maiuscola lui non è un errore di sintassi ma mi dice che la funzione non esiste a un certo punto attenzione il nome print non è definito cioè non so cosa intendi tu con print con la P maiuscola infatti qua me lo segnala anche attenzione che c'è un nome print non definito questi sono gli errori come appunto abbiamo detto di sintassi cioè non segui le regole con cui va scritto correttamente un programma Python non bilanci bene le virgolette non bilanci bene le parentesi chiami delle funzioni che non esistono e cose di questo genere questi sono facilissimi da correggere perché già mentre scrivi il programma di solito lui te lo segnala in rosso o se no ti fa vedere un bel messaggio e non vai avanti se non lo correggi quindi sai esattamente dove l'errore te lo indicano già lui sono gli errori a tempo di compilazione o errori di sintassi questi sono quelli facili poi quando tu hai tutto a posto cioè il tuo programma parte inizia la parte divertente che è quella degli errori logici cioè il programma parte lavora e stampa il valore sbagliato il nostro fioraio ha venduto dei fiori 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro il valore medio 8 euro ma come se non ti studia 5 come è fatto a venire 8 ecco a quel punto non c'è nessuno che ti aiuta nel senso che il tuo programma è un programma corretto in python è fatto da istruzioni corrette in python ma quelle istruzioni non calcolano ciò che pensavi tu hai spiegato qualcosa al computer e il computer ha capito non la uso questi termini ha capito la cosa diversa una cosa diversa o meglio sei tu che credevi di aver detto una cosa al computer in realtà ne hai detto un'altra quando va bene l'errore è madornale per cui il programma proprio si pianta quando va male l'errore è sottile per cui sembra giusto ma è un pochino sbagliato oppure sbagliato solamente in alcuni casi allora li diventa sempre più difficile da correggere quando incontreremo degli errori logici e li potremo fare con dei programmi un pochino più complicati è lì che entra in gioco tutta la funzionalità di debug cioè come facciamo ad andare alla caccia degli errori logici perché l'idea mi dice che va tutto bene è tutto verde non c'è nulla di rosso non c'è nessun errore visibile però fa la cosa sbagliata e allora devo andare a interagire col programma mentre viene eseguito per capire qual è il punto esatto in cui sbaglia sbaglia no non il programma sbaglia in cui io ho sbagliato scrivere una certa istruzione quando in realtà dovevo fare una cosa diversa poi noi diciamo così come scorciatore diciamo il programma sbaglia ma siamo ben coscienti che l'unico che può sbagliare siamo noi qua ok quindi su questo chiaramente sarà divertito quando avremo un pochino più padronanza del linguaggio qui ci sono alcuni esempi di cose che potete provare a scrivere e vedere come vengono segnalate dai vari ide quindi sia da PyCharm che da REPL sia eventuali errori appunto in cui magari dimentico un pezzo faccio una divisione per zero eccetera allora sono errori che vengono saltano fuori in esecuzione perché scrivere questo è perfettamente lecito ma poi quando cerco di calcolarlo ovviamente genera un errore questi sono ancora errori ovviamente molto molto facili questo erro hello world è anche difficile da leggere manca la L chi se ne accorge boh magari qualcuno se ne accorge in questo caso vabbè è facile vedere ma il programma immaginate che il compilatore non potrà mai sapere che io ho sbagliato a scrivere word anziché word non rientra nelle sue capacità nel fatto di sapere se il valore che sto stampando è quello che volevo oppure no questo sarà poi il nostro il nostro lavoro ok allora questa è una prima bozzata tanto per prendere un pochino di familiarità con gli strumenti ok adesso spero che magari anche gli altri problemi di installazione che avete avuto col programmi riusciamo a risolverli tanto questo giovedì il laboratorio sarà ancora in buona parte anzi 99% sui diagrammi di flusso quindi possiamo usare anche un pochino il giorno di questa settimana per cercare di limare e risolvere i problemi con PyCharm repli vi funziona vi funziona subito perché basta collegare sul sito e quindi potete sicuramente no che non manda in crash il pc 1 diviso 0 prova cosa fa e poi me lo dici e dicevamo repli potete usare comunque anche se avete avuto dei problemi ad installare PyCharm oppure Python e cercheremo questi di risolverli non è facile risolverli perché bisogna proprio andare a vedere dove vi da l'errore cosa avete installato cosa avete fatto e quindi perché non c'è la ricetta per capire che cosa è successo sul vostro computer allora giovedì abbiamo il laboratorio tra entro questa sera pubblicherò sul sito del corso il testo del laboratorio ce n'è già uno ma lo devo modificare perché il test la formulazione del primo esercizio è un po' contorta come italiano quindi lo correggo un attimo entro questa sera aggiorno il testo così da domani potete cominciare a guardare il testo del laboratorio e così giovedì quando arriviamo magari l'avete già visto l'avete già pensato magari si è cominciato a farlo e quindi diventa anche più proficuo lavorare insieme quell'ora e mezza l'ultima cosa domani all'inizio della lezione di domani mattina vi parlerò anche un pochino in dettaglio di come praticamente si svolgerà il laboratorio perché qui bisogna un po' mettersi d'accordo anche sugli strumenti come fare a avere assistenza remota eccetera eccetera quindi domani la prima mezz'ora dedichiamo questo e poi andiamo avanti in quel capitolo che si chiama appunto numeri e stringhe che è l'unità 2 di programmazione in python scusate se ho sforato di quei 3-4 minuti buona serata a tutti e ci vediamo domani ok